Scherzetto del sabato mattina, Mara assieme al nipote Iaio svegliano l'altro nipote Giulio e non è che la prenda tanto bene. Eccoci siamo a casa di zia Lisa con Nina e siamo qui pronti per svegliare quel dormiglione qui, Iaio, lo svegliamo di Giulio, preparate l'acqua. Chi dorme qui? Sveglia dormiglione! Sveglia dormiglione! Sveglia dormiglione! 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 Sveglia dormiglione! Vai a svegliare tuo cugino! Vai a svegliare tuo cugino! Ma stai ricchione! Dormiglione! Ti devi svegliare! Dormiglione! Questa è la sveglia del sabato mattina! Giulio, ormai grande, il venerdì sera fa tardi e il sabato si vorrebbe svegliare più tardi. Ma non è possibile! Arriva Mara! Ci subscriptions! Mi laissz attività! Acredipare! Mi laissza!